A Catania è scattato il preallarme per il rischio di irruzioni sull'Etna. La situazione desta di nuovo preoccupazione dopo gli episodi dei giorni scorsi che hanno avuto ripercussioni in particolare sul traffico aereo in Sicilia, ma anche nel resto del paese. Il Dipartimento regionale della Protezione Civile ha infatti innalzato il livello di monitoraggio da verde a giallo, indicando anche l'alta possibilità di accadimento imminente. Al momento non si registrano variazioni per quanto riguarda l'operatività dell'aeroporto della città. I sindaci dei comuni nei pressi del vulcano sono invitati a prendere misure precauzionali. secondo quanto previsto dall'ordinanza della Prefettura, in particolare interdizione delle aree interessate e mantenersi informati sull'evoluzione della situazione.